Ma qual è la vera Juve? Quella che ha fatto ridere l'Inter o quella che ha fatto piangere il Napoli? A Reggio Emilia i gol di Ronaldo e Morata hanno deciso la Supercoppa dopo un primo tempo sopporifero. Sull'1-0 Insigne ha tirato fuori un rigore. Scesni ha poi salvato il risultato. Per Pirlo primo trofeo d'allenatore in bianconero. La Juve si risolleverà grazie a questo successo? L'Udinese ha reso dura la vita dell'Atalanta nel recupero di Serie A. Un gol di Pereira dopo 24 secondi ha costretto i Bergamaschi a inseguire. E' stato Muriel a pareggiare. L'Atalanta non è riuscita a raggiungere il terzo posto e sabato dovrà affrontare un Milan rimaneggiato. Manzukic in panchina. In arrivo Tomori. Stasera in Coppa Italia Lazio-Palma. Per le sei sostituzioni della Roma rotolano le prime teste.